Piace ai bambini ma anche ai più grandicelli, piace alle mamme e alle zie che accompagnano i più piccoli, insomma piace a molti la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza San Francesco. Peccato che manchi un po' di musica, hanno detto in molti e in tanti, già un'ottantina, hanno firmato la richiesta indirizzata alla sovrintendenza affinché la musica venga autorizzata. I gestori infatti ci hanno spiegato che l'autorizzazione a poter diffondere della musica in piazza San Francesco era stata concessa dalla diocesi ma respinta proprio dagli uffici di via San Vitale. Due esperti di pattinaggio? No, direi di no. Ci prepariamo per i mondiali. Come sta andando questo giro sui pattini, sul ghiaccio? Bene. Divertente? Sì. Ma è anche difficile? Un pochino. Sono venuta qui con la mia figlia, siamo venuti subito dopo la scuola e lei si trova bene qui. Ci sono tanti campani dalla scuola, tutti sono amici, giocano, molto divertente, proprio mancava qui la pista, qualcosa, perché c'è poco roba per bambini qui in giro. Un po' ci sapete andare? È la seconda volta in tutta la mia vita. La prima? La prima. Cos'ha di bello, cos'ha di divertente? È una cosa innovativa, Ravenna, per fare qualcosa di diverso, divertirsi un po', staccare dallo studio, un modo un po' diverso. Le stesse motivazioni. Allora, voi state aspettando di provare la pista? Avete già provato? La proverete? Non lo so, ci dobbiamo pensare. No, io non ho mai provato, stiamo aspettando due nostri amici che stanno provando adesso. L'idea che piace? Sì, 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 sì. Lei che accompagna? Ho accompagnato il bambino di un'amica. Cosa ha di natalizio una pista di pattinazzo? Beh, visto che non c'è la neve, un po' di ghiaccio ci sta bene, dai. Ignazio, sei andato sulla pista di pattinaggio? Sì. Sì. Allora risponde fratello grande. C'è andato? Come è andata? Bene, dai. Ma l'hai aiutato tu? Sì, direi di sì, altrimenti era terra perennemente. Come è andata finora? Sono caduti, quindi... Per ora no? No, per ora no. No, ancora non sono caduti, no, però è divertente, cioè sta in mezzo alla gente, si prova a fare quel che si può e poi se si cade, si cade e ci si rialza. Però una pista di pattinaggio in piazza San Francesco rende un pochino più natalizia la città. Sì, secondo me sì. Quello sì, sicuramente. Un'idea che piace? Sì. Sì, molto, molto. Manca qualcosa forse? Sì, è vero. È vero, la musica sì. Non ci avevo pensato, però sì. Sì, è vero, è vero.